Si sceglie l'EMBA weekend perché si ha voglia di cambiare e perché si ritiene che questo cambiamento possa essere perseguito attraverso l'accrescimento delle proprie competenze, attraverso lo studio in una scuola di prestigio com'è la Sdabocco in School of Management. Scegliere un Executive MBA in Formula Weekend significa innanzitutto decidere di scegliere di fare un MBA, un Master in Business Administration. Un Master in Business Administration è un programma destinato a coloro che non riescono a placare quella sete di conoscenza che dovremmo avere tutti noi. Farlo in una formula weekend, quindi venire fondamentalmente il venerdì sera e il sabato tutta la giornata in un programma così sfidante, significa fondamentalmente riuscire a comprimere quella variabile scarsa che abbiamo e che non riusciamo mai a controllare che è il tempo. Ho scelto MBAWi di Sdabocconi perché è rivolto a professionisti che operano e lavorano già da alcuni anni e soprattutto perché è un prodotto che consente di conciliare bene quella che è l'attività lavorativa con un percorso accademico intenso e particolarmente stimolante. Ho scelto MBAWi di Sdabocconi perché era un momento un po' particolare della mia vita in cui volevo fare qualcosa per cambiare. La formula weekend è il giusto compromesso tra le mie esigenze di vita personale e manageriale e la possibilità di accedere ad una formazione di eccellenza. La formula che abbiamo deciso di stabilire qui in Sdabocconi permette fondamentalmente di venire qui un weekend sì e un weekend no e quindi permette di avere anche di mantenere un equilibrio con la propria vita privata. Se da un lato concentra in maniera molto efficace la didattica e l'impegno di aula in momenti molto precisi dall'altra impone comunque che il partecipante svolga un'attività tra una sessione e l'altra di preparazione e di studio che noi sosteniamo anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie a distanza. L'EMBA Weekend rappresenta anche una continua sperimentazione perché assorbe e riutilizza tutto il bene che in questi anni è stato realizzato all'interno dei programmi eseguti MBA della nostra scuola e rende i partecipanti in un certo senso parte del processo di crescita e miglioramento stesso del programma. Consiglierei l'EMBA Weekend a chi in qualche modo è ispirato da una sensazione, da un qualcosa che sente dentro e che ha a che fare con la propria crescita personale. Consiglierei l'EMBA Weekend a tutti coloro che hanno come target successo non solo successo nella vita privata ma successo nell'ambito lavorativo. Liberi di crescere, liberi di cambiare. Il claim di EMBA Weekend è libero, fa capire come in realtà il master sia un contenitore dove ognuno contribuisce in parte a creare questo contenuto all'interno e lo rende secondo me diverso ogni volta perché poi le persone che partecipano sono quelle che danno il senso al master stesso. Libertà e volontà di cambiamento e quindi di crescita, una crescita che devo dire la verità sta già accadendo giorno dopo giorno.